Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, oggi guardiamo insieme un nuovo gioco che deve ancora uscire, sarà disponibile su Steam dal 15 marzo, mi è stato fornito dalla Paradox Interactive che è la casa che lo pubblica, si tratta di Surviving Mars, un gioco survival city builder di esplorazione. colonizzazione spaziale in cui dobbiamo andare sostanzialmente a colonizzare il pianeta rosso, il nostro vicino di casa, possiamo dire così nel sistema solare, anzi forse più vicino Venere, ecco non lo so, ma è comunque dove teoricamente potremo andare effettivamente a colonizzare anche noi nel lontano breve futuro, non si sa. Cos'è il gioco? Allora bisogna sostanzialmente andare su Marte come vi ho detto e cercare di sviluppare una colonia, inizialmente sarà gestita da dei robotoni perché ovviamente non ci sono ancora persone, però lo scopo è andare a costruire questi edifici qua, che sono i dom, dove all'interno possiamo andare a costruire praticamente delle micro città, dove ovviamente andremo a portare le nostre persone, quindi poi svilupperemo una specie di centro su Marte. Allora, proviamo subito a cliccare su nuovo gioco, vediamo un po' di cosa si tratta, l'ho avuto a disposizione già da qualche giorno quindi ho fatto alcune prove, ma adesso scopriremo assieme un po' tutto quanto, dovrei fare in tempo a vedere i vostri commenti, non dico tra un episodio o l'altro, ma già per esempio prima di registrare il prossimo di sicuro leggerò i vostri commenti, quindi se avete domande particolari fatemi lì pure, questa è la scremata iniziale, anzi dire il vero c'è la possibilità pure di fare Easy Start, ma facciamo New Game così guardiamo bene tutti i particolari, Easy Start fa partire una partita senza la fase iniziale di impostazione. Allora, come funziona il gioco? Siamo nel 1821, l'Etiopia ha da poco riformato l'impero romano e ha completato il progetto antico di Pax Romana, ha conquistato tutto il pianeta e convertendolo alla religione copta, di conseguenza non c'è più niente da fare sulla Terra e l'imperatore ha deciso di andare su Marte, perché non c'era più niente da fare, quindi ha creato delle missioni sponsor con le quali bisogna finanziare i nostri viaggi spaziali, adesso guarda gli scherzi, come funziona il gioco? Bisogna prendere degli sponsor che sponsorizzano appunto la nostra missione di andare su Marte, quindi c'è questa parte proprio dei finanziamenti, perché hanno introdotto in questo anche un'economia qua, mi escono messaggi del driver della scheda video, scusate, hanno introdotto anche l'economia, quindi è importante anche soddisfare il nostro sponsor e soprattutto trovarne uno che ci dà abbastanza fondi, quindi guardiamo un po' qua cosa c'è a disposizione, il gioco base parte con International Mars Missions, che è l'opzione assolutamente più semplice, proprio di molto più semplice rispetto alle altre, è la missione comunitaria di tutto il pianeta Terra, quindi di tutte le nazioni, se no ci sono quelle della Cina, Stati Uniti, associazioni private, Europa, Battela Pesca, Random e Paradox Interactive che dovrebbe essere la più difficile. Qua sopra vedete che c'è difficolti bonus, qua potete velocemente vedere un attimo il livello di difficoltà, questa qua è al 20%, l'ultima è al 220%. Allora, International Mars, cosa ha diverso rispetto alle altre? Innanzitutto questi qua sono i nostri razzi e ne possiamo avere un numero definito, dipende da quanti soldi ci vuole dare il nostro sponsor, quanti razzi comprende, comprende e la missione internazionale ne ha quattro, gli altri ne hanno di meno due, uno, questo qua cinque, però ha molti meno fondi cash insomma. Ci dà molti più soldi, abbiamo la ricerca che è per Sol, Sol si intende, non ho ancora capito se è giorno o anno, o hanno unito due concetti di giorno e anno, però ovviamente su Marte, non hanno terrestre, ma poco importa, comunque cicli, ecco cicli solari, giorni o anni, fate quello che volete, comunque cicli solari, avremo 300 boccette di scienza a ogni ciclo solare, altre nazioni ci danno cose diverse, per esempio l'Europa dovrebbe darcene un po' di più, però partiamo con meno oggetti, questa qua è davvero la più semplice anche perché i razzi si rialimentano da soli, varie cose comunque, per la prima missione possiamo scegliere assolutamente questo, possiamo scegliere il profilo del comandante che può essere un inventore, e varie altre cose, un ingegnere idrico e batte la pesca, lasciamo quello che c'è che va abbastanza bene perché ci dà la possibilità di avere un razzo in più, cosa che ci aiuta assolutamente all'inizio, quindi abbiamo già 5 razzi in questo modo, qua possiamo scegliere il logo, ce ne sono un po', ovviamente questi saranno tutti moddabili, e tra l'altro nel menu principale non mi sono soffermato molto, ma c'è proprio un pezzo del menu basato sulle mod, io metterei qua invece Don't Panic, che mi sembra il più bello, c'è pure misteri, di cosa si tratta? Ovviamente è un mistero, Giacobbo Conno, come cacchi si chiamava, quello di Voyager, potrebbe aiutarci, in ogni caso ci sono dei misteri su Marte, non sappiamo se ci sono alieni, anomalie, cose particolari, particolari, bufere, mostri, vermoni giganti, non lo sappiamo, è un mistero, lasciamo random e direi che qua siamo pronti assolutamente a partire, allora questo qua è il nostro razzo che ho scritto sopra Don't Panic, adesso non possiamo girarlo per vedere diversamente, come funziona? Dei 30.000 fondi iniziali qualcuno ci è stato speso, ci hanno dato queste cose qua, abbiamo delle costruzioni già prefabbricate, abbiamo i tre tripi di rover grandi insomma, rover macchine grosse disponibili, che sono queste tre, e abbiamo sei droni, non ci stiamo portando nessun tipo di cemento, nessun metallo, nessun cibo, adesso non ci sono passeggeri, c'è solo robot che mangiano energia, che mangiano energia, quindi non ci servono, e poi queste sono le risorse più importanti, o più avanzate, che sono i polimeri, le parti meccaniche, e le parti elettroniche, quindi abbiamo in totale sei risorse in questo gioco, più quelle che non possiamo portarci, come per esempio l'ossigeno, l'acqua, e vi dicendo che dovremo ovviamente andare a sviluppare sul pianeta rosso. Allora vediamo un attimo cosa ci stiamo portando dietro. Cose prefabbricate, abbiamo il centro per il drone, poi la macchina che vaporizza l'acqua, che praticamente recupera l'acqua dall'atmosfera, ok va bene, questo per ora non ci interessa, anche perché abbiamo comunque una capacità di cargo, che attualmente è completamente occupata, abbiamo due generatori sterling, che generano molta energia, quindi saranno molto utili, poi abbiamo i tre droni, cioè i tre rover principali, e qua abbiamo un po' di tutto, delle altre cose, delle altre risorse principali, poi abbiamo pure le orbital probe, che servono per esplorare il pianeta, quindi adesso mentre sorvoliamo, qua non mi ricordo il nome delle colonie, comunque gli Stati Uniti, possiamo partire alla volta del pianeta rosso, siamo arrivati su Marte, il viaggio è stato molto veloce, vi siete accorti, e ora dobbiamo decidere dove atterrare, dove far nascere la nostra colonia. Allora ci sono già dei punti prestabiliti, se volete provare, adesso potete cliccare se no a voi dove volete, fare andare avanti eccetera, se avete intenzione di giocare dentro un canyon, cose particolari può essere divertente, comunque le cose interessanti si vedono da questa parte. Allora ci sono, iniziamo dalle cose più semplici, le risorse, che sono metalli, acqua e cemento, che sono quelle che potevamo portarci anche da casa, c'era cibo al posto dell'acqua, però ovviamente è inutile portarsi il cemento dalla Terra, esisterà anche su Marte, quindi ovviamente andremo a scavarlo qua, eccetera eccetera eccetera, quindi è importante trovare un sito dove ci siano queste risorse in maniera più alta possibile. Poi però ci sono anche dei pericoli, che sono la polvere, perché se è un luogo molto polveroso, si genera molta polvere, anche solo muovendosi, considerate come se fossimo nel deserto del Sahara, o in una spiaggia insomma, molto polverosa, quindi granelle molto piccole, basta che uno corre e alza la polvere giustamente, poi ci possono essere, visto che questa comunque è la distesa, una pianura molto grande possiamo dire insomma, delle tempeste di sabbia, potrebbero accadere meteoriti, e potrebbero esserci anche ondate gelide, quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Altre informazioni ci dicono che la topografia del luogo è un luogo pianeggiante, è un luogo montuoso, abbastanza piatto, dovrebbe esserci tipo piatto piattissimo, quant'è la temperatura e l'altitudine. Se siamo in un luogo abbastanza basso, per esempio questo sembra essere un canyon, e ci dice che siamo in un'altezza relativa su Marte di meno 4.000, dovrebbero esserci meno ondate di freddo. Comunque vediamo un attimo, c'è il Monte Olimpo, che è questo qui ragazzi, se ci cliccate sopra ve lo dice Monte Olimpo, che è alto 20.000 metri ragazzi, potremmo andare direttamente sopra il Monte Olimpo, ovviamente non è il luogo migliore dove andare a colonizzare, e ci sono altre zone interessanti, e avevo guardato che qui, c'era in qualche parte, adesso vediamo se riesco a ritrovarla, Sì, è proprio qui, vicino a queste due, c'è il luogo con tutti questi, questi qua al massimo e questi al minimo, vediamo se riusciamo a beccarlo, ragionando un po' col mouse. Allora, qua abbiamo tutto al massimo, potrebbero cadere più meteoriti. Vediamo un po'. Vabbè dai, ci becchiamo un meteorito in più? Difficulti bonus 70%. Avanti, abbiamo deciso dove, come si dice, a terrare? Siamo arrivati su Marte, intanto il mio computer, non so perché è impazzito, e continua a fare sventolate con il dissipatore, non ne ho idea. Comunque, il gioco qua ci dà il benvenuto, ci ricordo un attimo dove siamo, ci dice che ovviamente, prima di poter portare qua delle persone, abbiamo bisogno di acqua, ossigeno e energia, quindi queste sono le nostre prime preoccupazioni. Allora, come siamo? Dove siamo arrivati? Questo è il sito dove siamo arrivati in questo momento, quello è un... se cliccate qua ci sono i consigli. Siamo arrivati qua, però non sappiamo assolutamente niente di questo posto, cioè almeno abbiamo fatto una foto dall'alto, vediamo che c'è questo canyon, che potremmo non andare dentro qua col razzo, potremmo metterci fuori, potremmo star lì dentro, ma non abbiamo molte informazioni, attualmente abbiamo solo queste due indicazioni qua, sulla superficie, una che ci dice che c'è del cemento, che è questa, e l'altra... via... e l'altra è questa qua, che è il simbolo che vedremo più avanti per i minerali particolari. Visto che abbiamo bisogno di più informazioni, soprattutto di trovare l'acqua, direi che possiamo utilizzare subito le nostre orbital probe per andare a fare la scansione subito e immediatamente di qualche altro pezzo di terra per decidere un po' come andare a svilupparci. Allora, qua abbiamo per adesso non molte informazioni. Non saprei se andare a mettermi fuori o dentro, perché qua è comunque una zona più pianeggiante, però magari può essere interessante anche qua per questo Lex Explorer, anche perché poi avremo la possibilità comunque di scendere da questo altopiano con delle strutture specifiche. Allora, andiamo a vedere un po' cosa c'è qui. Abbiamo trovato un sacco di minerali particolari. Abbiamo trovato un'anomalia e altri minerali, questi qua non particolari. Ok, altro cemento. Mi interesserebbe trovare dell'acqua. Non abbiamo trovato l'acqua. È un po' rischioso, perché se non c'è acqua qua sopra, però in teoria è strano, perché ovviamente abbiamo cercato un posto pieno d'acqua, quindi teoricamente qua sopra lo andiamo a trovare. Quindi inizialmente non avremo l'acqua. Facciamoci una ragione. Andiamo a posizionare il nostro punto di atterraggio. Allora, dove possiamo andare a metterci? Io direi, considerando che qua ci sono davvero tante, tante risorse, di andare a piazzarci proprio qua in mezzo. Adesso vedete il razzo che atterra pian pianino. Eccolo qui. E arriva su Marte. Quindi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. La razza umana è finalmente arrivata. Non è vero, non siamo ancora arrivati, perché questi sono solo robot, quindi sono sonde e ci siamo riusciti anche nella realtà a farla. Ecco, mi dice che ci possiamo muovere con WASD, con Q e E, inclinate la mappa in questo modo. WASD invece mi muovete normale, insomma. Potete muovervi anche tenendo premuto il tasto centrale del mouse, cose di questo tipo. Questi qua sono i rover iniziali, quelli principali che vi dicevo, mentre questi qua sono i droni piccolini. Perfetto. Quelli che vanno in giro effettivamente a fare le cose. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, secondo me, è assolutamente trovare l'acqua. Però, prima di fare ciò, dobbiamo mettere... dobbiamo cercarla, ovviamente. Quindi, come facciamo? Qua ci sono delle opzioni e ci dice che non stiamo esplorando niente. Quindi, ora possiamo mettere il sensore del nostro razzo a cercare l'acqua qui attorno. Io direi di cercarla in questi punti qua. Possiamo mettere in ricerca fino a quattro posti di fila e lui, pian pianino, le andrà a cercare. Quindi, questo l'abbiamo fatto e dovrebbe essere a posto. Poi ci dice pure che non abbiamo nessuna scienza, non stiamo ricercando nessuna tecnologia. Allora, tutto quello che vedete, ragazzi, anche la mappa, è tutto random, comprese le tecnologie. Quindi, non è detto che voi abbiate le stesse che voi in questo momento. Anzi, rispetto alle partite precedenti, anche io non avevo mai avuto queste. Quindi, ci sono delle cose particolari che possono essere diverse. Questa qua è la tecnologia particolare che abbiamo perché il nostro capitano è un rocket qualcosa, Rocketman, King Jong-Jun. Molto bene. Allora, qua possiamo andare a sviluppare già qualcosa. I vaporizzatori idroscopici sono più efficienti. Visto che ne abbiamo già uno, potremmo farlo, però magari non è una priorità. Ok, quindi potete cliccare con un tasto e toglierlo con quell'altro. Poi, Ingeniering... Ah, ovviamente non l'ho detto, ma questo gioco è disponibile anche per PlayStation, Xbox, ma io sto giocando sul computer, non conosco i tasti. Cioè, potrei giocare con il joystick di Steam, ma non conosco i tasti e comunque, insomma, per essere un gioco gestionale, secondo me, io preferisco usare il mouse. Quindi, mi dispiace, non posso aiutarvi sul che tasti utilizzare per le console. Questo vuole essere subito chiaro, però, insomma, penso che sia abbastanza agevolata la faccenda. Vediamo un po'. Visto che dobbiamo cercare l'acqua, potrebbe essere interessante andare subito a mettere questo. però c'è da dire che attualmente non le possiamo produrre. Art Cheaper, quindi dovremmo portarle da terra, non è che sia una ricerca molto interessante adesso. Allora, facciamo questo, questo e questo. Ne possiamo mettere tre in fila. Ecco qua, spendiamo un po' di parole per tutto quello che vedete qui. Allora, la nostra scienza totale attualmente è 300, data solo dal nostro sponsor. Possiamo spendere dei soldi, 200 milioni, quindi non è neanche tanto, per avere un bonus di ricerca di mille boccettine per 5 soli. Quindi potremmo farlo, tanto di soldi attualmente ci sono. Facciamo solo questo, perché questo qua decisamente costa troppo. Perfetto, abbiamo speso un pochino, ma abbiamo aumentato di 200 la ricerca, quindi è già un bel po'. Quindi la ricerca è fatta, no resource, è andata male, perché abbiamo trovato in alcuni punti praticamente nulla di interessante, peccato. Va bene, allora adesso ci dobbiamo mettere subito a costruire. Costruire immediatamente, voglio anche fare delle strutture per ricercare più velocemente, perché ragazzi, senza acqua non si va da nessuna parte, però non ci serve subito, 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 almeno i robot possono vivere tranquillamente senza, ma a un certo punto ci servirà per portare qua le persone. Ora ho messo a gioco il pausa a tre livelli di velocità. Guardiamo subito un attimo i nostri rover principali. Ora ne abbiamo uno, qua però facciamo che le... gli int non vengono troppo a disturbarmi. Qua potete impostare ovviamente i shortcut sono molto 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 utili, quindi può essere interessante. Int e qua ci sono tutti i consigli, dove cacchio era per toglierli, option gameplay int off apply cancell spero non escono più perché se devo riavere il gioco per togliere i consigli mi sembra un po' strano, comunque con questo rover è quello con cui andiamo a sviluppare, a verificare un po' le anomalie, quindi andiamo subito a verificare questa boccetta, lo mandiamo di lì. Gli altri due invece cosa sono? Questo rover dei trasporti che può andare in giro a recuperare le risorse e lo facciamo immediatamente o può portare le risorse da un punto a un altro, mentre quest'ultimo praticamente come funziona questa fase iniziale anzi tutte? I droni piccolini sono quelli che fanno le cose, però hanno bisogno di una base. Le basi sono di vario tipo, ci sono le basi generate dai razzi, le basi generate da delle strutture apposite, le basi generate dalle colonie umane e da questa struttura qua che possiamo muovere in giro e utilizzare come base supplementare. Attualmente non abbiamo bisogno di andare molto lontano da dove siamo, quindi lasciamo la lì e direi che ci siamo. Possiamo togliere la pausa tranquillamente e andare subito nel nostro menu di costruzioni che si può anche attivare o con la lettera B o cliccando col destro per terra. Quindi abbiamo la possibilità di mettere per esempio il drone hub che è quella struttura che dà la possibilità ai robottini di costruire vedete che c'è questo mi zooma un po' troppo indietro c'è tutta questa area qua, questo esagono è l'area dove i robot che sono attualmente dentro il razzo hanno la possibilità di agire per esempio ci sono sei drone dentro il razzo e possono agire in quest'area la sua è molto più piccola però ovviamente ha la possibilità di muoversi questa struttura qua questa struttura qua praticamente ha la stessa area di un razzo ma è una struttura che possiamo andare a costruire dove vogliamo noi allora come prima cosa andiamo subito a guardare un po' l'energia perché sennò non possiamo costruire praticamente nulla questo è il nostro resoconto attuale abbiamo dei minerali che stanno sono raccolti attualmente da lui non abbiamo cemento non abbiamo cibo ma ora non ci serve per andare a raccogliere il cemento dobbiamo andare un po' qua in production e guardare le strutture allora ne abbiamo già un po' questo è l'estrattore del cemento possiamo metterci in questo punto ne tiriamo su davvero tanto quindi possiamo girare la struttura con la R ci mettiamo così in maniera tale che ne tiri su davvero abbastanza ecco qua vedete che ci sono delle informazioni quante risorse ci sono e qual è il grado di queste risorse quindi vuol dire che per quantità di lavoro della macchina quanto è efficiente la sua raccolta adesso se andiamo a spostare questo qui in questa zona e aumentiamo quella velocità vedete che i robottini si metteranno immediatamente a costruire per costruire questo servono delle parti di macchina che sono dentro il nostro razzo e metallo che non c'è quindi i nostri robottini adesso lo andranno a recuperare nei meteoriti che ci sono in giro lo andranno a depositare inizialmente qui dentro non so se si riesce a vedere e adesso sono andati subito avanti nel costruire questa struttura ecco qua però questa struttura non ha energia quindi ora dobbiamo fornire l'energia intanto diciamo a questo rover di andare in giro magari troviamo davvero dell'acqua qua per ora non ce n'è ci serve energia come facciamo a generare energia ci servono delle strutture che lo possono fare come per esempio i pannelli solari che però ovviamente come vedete sta arrivando la notte diventano poco efficienti o le turbine a vento allora andiamo a mettere qua qualche qualche turbine a vento se schiacciate shift vi dà la possibilità di metterne giù più di fila poi potete ovviamente cancellarle prima se fate questo in pausa non perdete ovviamente nulla e c'è la possibilità ovviamente di costruirne di girarle in maniera tale da metterle in posizioni più efficienti non è la struttura migliore questa sono più efficienti i pannelli solari però questa qua ha ovviamente il vantaggio che fornisce energia anche di notte poi andiamo a schiacciare C che è la shortcut per costruire un cavo elettrico se non potete ovviamente andare qua e cliccare su cavo elettrico e la andate a unire alla struttura a cui serve per adesso magari facciamo una storia di questo tipo perfetto vedete che si è creato questo piccolo cavo adesso appena i i droni saranno pronti dovrebbero essere in grado di costruire quella struttura lì cosa ho fatto io però ho fatto magari qualcosa che potrebbe essere considerato una sciucchezza nel senso che sono andato troppo lontano quindi come funziona ho bisogno per forza di avvicinare i miei droni in quest'area che adesso avranno bisogno di recuperare un po' di minerali per fare questo come facciamo? diciamo questa struttura a questo drone che adesso ha dei minerali stoccati nel suo retro perché li ha raccolti dal sasso che c'era in questa zona e gli dicevo di andare a lasciarli in questo punto così possono essere utilizzati boom e la stessa cosa possiamo dire qui dentro di andare a mettere le parti meccaniche sotto perché adesso c'è qualche drone uno questo qua che entra no sta andando a farsi un giro però le parti meccaniche devono essere scaricate da questo razzo e messe vicino qui altrimenti non possiamo fare praticamente nulla per risolvere questo problema però cosa possiamo fare ovviamente andare a costruire la nostra struttura prefabbricata poi infrastrutture andiamo a mettere questo questo centro per i droni drone hub in questa zona che dovrebbe coprire abbastanza tutta la base e per dare l'energia a cui serve anche lui possiamo andare a costruire visto che è arrivato anche il giorno adesso qualche pannello solare adesso ho costruito entrambe le strutture però questa combinazione vedete che sarà abbastanza utile perché avremo l'energia sia di giorno che di notte e adesso possiamo già anche pensare a come accumularla con delle batterie magari ne facciamo già un paio così qua dovremmo essere a posto per un bel po' oltre a queste strutture abbiamo anche dei generatori sterling che sono gratuiti nel senso che ce ne siamo portati un pochino da casa già prefabbricati quindi mettiamoli in questo punto ora dovremo avere davvero un surplus energetico e quindi la nostra struttura dovrebbe iniziare ad avere appunto l'energia elettrica per raccogliere il cemento che viene stoccato qua dietro e poi utilizzato per quello che deve essere utilizzato allora il cemento però dove lo può mettere questa struttura perché ne può tenere al massimo 20 per se stessa oltretutto produce anche delle pietre di scarto e poi non c'è più un posto dove andare a metterlo quindi possiamo andare a costruire dei depositi dove andranno a essere stoccati cemento e quant'altro allora abbiamo fatto quello del cemento facciamone due perché siamo esosi comunque una zona dove potremo effettivamente andare a raccoglierne tanto e poi ci sono anche delle rocce io andrei anche a mettere giù questi in maniera tale che anche le rocce di scarto vengono messe comunque in una zona abbastanza ordinata ora mentre questi vengono costruiti possiamo andare anche a costruire qualche deposito generale che mettiamo magari sempre in quest'area qui così in questo modo tutto quello che c'è qua dentro viene scaricato nel deposito generale perché ha la priorità rispetto al razzo e quindi tutte le strutture vengono scaricate lì quindi questa è un po' la fase iniziale e direi che per oggi ragazzi ci possiamo salutare qua una struttura che però voglio andare a costruire subito perché senza acqua vi giuro che non andiamo da nessuna parte è questa torre che andrei a mettere in questo punto ok abbiamo finito tutto quanto vediamo un po' non è che ci siano risorse ricerche molto utili a dirla tutta facciamo queste adesso abbiamo pure le ricerche aumentate quindi possiamo darci davvero alla pazza gioia mettiamole tutte in fila ma non è che ci sia la ricerca giusta per noi in questo momento e vediamo un po' se lui ha trovato tutto quello che c'era da trovare andiamo qui perfetto però vedete che ha la batteria un po' a metà quindi mettiamolo un attimo qua a recuperare le batterie allora neanche qua abbiamo trovato l'acqua è pieno di minerali in questo punto però appena sarà costruita la nostra torre eccola qui possiamo avere delle informazioni in più in questa zona allora per esempio noi sappiamo che questa zona non contiene acqua perché adesso che abbiamo la torre sensoriale questa qua torre di scan non è la torre sensoriale possiamo avere delle informazioni in più per esempio sappiamo che qua non c'è l'acqua mentre qua sì quindi andiamo a cancellare questo e qua cerchiamo l'acqua qua non c'è niente qua non c'è l'acqua qui non c'è l'acqua abbiamo trovato esattamente il posto con meno acqua su tutto a Marte probabilmente comunque qua dovrebbe esserci un po' d'acqua quindi andiamo immediatamente ricercare lì e vediamo se c'è la possibilità di scendere per andare a scendere da questo altopiano che è pieno di minerali ma povero di acqua come facciamo a scendere da questo altopiano? c'è una struttura molto importante che però è abbastanza avanzata quindi per ora non ci serve che sono i tunnel con i tunnel possiamo posizionare dove vogliamo anche qui e ah vabbè lì non avrebbe molto senso comunque con il tunnel possiamo scendere superare queste altopiane o semplicemente percorrere grandi distanze senza dover utilizzare strutture esterne che sono soggette purtroppo alla polvere questa è una cosa di cui bisogna parlare subito perché tutte le strutture hanno un certo mantenimento dovuto prevalentemente alla corrosione della polvere e la polvere è generata da alcune strutture per esempio queste non ne generano forse questa ne genera un pochino di sicuro la fabbrica di cemento genera molta polvere e la cosa che genera più polvere in assoluto sono i razzi quando atterrano decollano comunque ragazzi dai ci salutiamo qua troveremo l'acqua qui chi lo sa speriamo di sì una volta che troveremo l'acqua potremo andare avanti comunque i prossimi passi ragazzi sono di sicuro la ricerca di acqua e magari possiamo andare un attimo a recuperare altre risorse come per esempio tutti questi minerali ce ne sono davvero tanti qua e dovremo andare a spostarci vicino all'acqua e ai minerali per andare prima o poi a raccoglierla c'è la possibilità in realtà di raccogliere l'acqua anche con altri metodi ma ne parliamo nel prossimo episodio quindi fatemi sapere ragazzi qual è la vostra prima opinione su questo gioco altrimenti questa non è una recensione né niente è semplicemente un Lex Explorer però io ho già guardato un attimo come è il gioco così vi posso raccontare un po' com'è adesso abbiamo davvero un sacco di energia elettrica perché ho costruito più di quello che ci serviva dobbiamo stare attenti però a non fare l'errore di costruire troppo perché se per esempio utilizziamo troppe risorse qui poi non saremo in grado di andare a costruire il dome che richiede esattamente 10 polimeri dove andranno dentro i nostri primi colonizzatori di Marte quindi ci salutiamo qua vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto di lasciare un bel mi piace per sostenere sia questo se vi piace il gioco o per semplicemente per sostenere il mio canale e di condividere il video con i vostri amici GG a tutti